In quel giorno la radice degli essi si leverà a vessillo per i popoli, le genti la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Alleluia! Anche Giuseppe della Galeria, dalla città di Nazareth, Salini, Giudea, alla città di Davide, chiamata Betrem. Egli apparteneva infanzi alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Dieri alla luce il suo figlio primogenito. Lo affosse, il farce lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto l'alloggio. Alleluia! 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 Giuseppe e Maria fissero una triste esperienza. Per loro non c'era posto. Noi oggi, invece, vogliamo dire a Maria Giuseppe che per Gesù gli facciamo tutto il posto possibile nella nostra famiglia, nella nostra vita, nel nostro abito. E così per noi Natale 2020, Natale dell'epidemia della coronavirus, è un Natale molto più sentito, più raccolto, molto più vissuto. È il Natale di Cristo, è il Cristo che ci ha resi sempre più consapevoli e siamo veramente fra tutti noi, fratelli e sorelle, nel suo amore. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e l'agnello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. Piratino Rotissimi Piratino Rotissimi Piratino Rotissimi Grazie a tutti. Grazie a tutti.